Siamo qui con il sindaco di Cairo Montenotte Lambertini e vogliamo parlare un po' di sanità, salute e un problema che interessa particolarmente in Val Bormida per quanto riguarda in particolare lo studio relativo all'incidentalità dei tumori. Ma a che punto siamo? Dunque intanto è uno studio che dal punto di vista epidemiologico è stato effettuato nel 2013 e questi dati sono dati non facili da leggere per le persone comuni, pertanto ho richiesto ed ottenuto da parte della regione Liguria, quindi dagli assessorati competenti sanità e ambienti in collaborazione con le istituzioni che logicamente devono essere coinvolte, quindi ARPAL, IST, che è stato quello che ha realizzato l'indagine. E le ASL, una serie di incontri, un tavolo di lavoro che è attivato e che sta lavorando per rendere questi dati leggibili a tutti e correlarli anche a un dato statistico che è stato effettuato più o meno per lo stesso periodo di tempo nel quale si indagava sulle tipologie di decessi che ci sono stati in relazione alle varie malattie tumorali. Questi sono dati che purtroppo non si riescono a mettere insieme, quindi non si possono fare dati comparativi perché sono due indagini che ciascuna per suo conto avevano delle finalità diverse rispetto a quelle di trovare una causa ad un effetto. Noi questi dati li stiamo aspettando, sono in stretto contatto con i vertici dell'ASL, i quali credo a breve, direi sicuramente entro l'anno, cominceranno a produrre alcune informazioni per poter dare visibilità a tutti e dare un dato che sia facilmente leggibile a tutti sull'incidenza di questi dati, che a detta loro non sono dati preoccupanti e sono dati che non si discostano da quelle che sono le imbedie nazionali. Attraverso questo punto studio poi quindi si potrà eventualmente valutare e fare qualcosa? Sicuramente sì, sicuramente ASL sta già chiedendo alcuni approfondimenti in merito agli aspetti ambientali, anche se dal punto di vista dei rilievi dei principali inquinanti dal 2013 ad oggi raramente si sono superati i livelli di soglia, quindi da questo punto di vista i miglioramenti ci sono stati e sono stati effettivamente visibili e valutabili. Ora è chiaro che vedremo con ASL di approfondire anche nell'ambito di queste indagini dei dati e dei numeri che di per sé altrimenti sarebbero difficili da interpretare.